Il titolo di questa presentazione è la grande domanda. Squilibrio ambientale e conflitto dei valori. La società umana oggi ha due sistemi economici diametralmente opposti. Uno è il modello economico del mercato monetario imposto dalla tradizione. L'altro è una struttura di regole fisiche che emerge dalla crescente conoscenza scientifica della realtà, sia a livello ambientale che sociologico. Le conseguenze sono il sempre crescente livello di destabilizzazione sociale e il continuo declino della salute pubblica. Ho diviso questo intervento in due brevi sezioni. La prima parte si chiama scontro tra sistemi, efficienza di mercato contro efficienza tecnica. La seconda conflitto dei valori, potenziale sociale, collasso e transizione. Cosa siamo capaci di fare e che cosa ci aspetta se non lo facciamo, come possiamo uscire da questo sistema eccetera. Prima di iniziare con la prima parte parliamo di economia. Cos'è l'economia? In greco è definita come la gestione del patrimonio, una definizione che viene spesso dimenticata. Economizzare cosa significa? Significa aumentare l'efficienza, tenetelo a mente, ridurre lo spreco. Ecco cosa dovrebbe essere un'economia, mi spiego meglio. Useremo due concetti durante questa presentazione. Il primo è la nozione teorica di un'economia della terra che significa basare le decisioni direttamente sulle conoscenze scientifiche in relazione con la gestione ottimizzata dell'ambiente e della salute umana. Produzione e distribuzione sono regolate dall'approccio tecnico più efficiente e sostenibile conosciuto al momento, a confronto con l'attuale economia di mercato, dove le decisioni sono basate su azioni umane e indipendenti, mediante il veicolo dello scambio monetario regolato dalle pressioni dalla domanda e dell'offerta. La produzione e la distribuzione sono rese possibili dall'acquisto e dalla vendita di lavoro e forniture dei materiali, da motivazioni personali o di gruppo. L'interesse personale, in quanto attributi principali che ne dettono il funzionamento. Questa è una lista di sette attributi economici. Ce ne sono molti altri, ma è su questi che voglio concentrarmi qui. Sono intrinseci di ogni economia se le mettiamo a confronto. Mi sto concentrando sull'economia di mercato e la sua relazione con un sistema naturale, ciò che chiamiamo economia della terra. Gli unici termini qui con questi asterischi sono gli elementi del nostro sviluppo sociale, basati su un genio e integrità scientifica, l'evoluzione della scienza e della conoscenza di noi stessi e dell'ambiente. Di questo si parlerà più avanti affrontando punto per punto. Punto primo, consumismo. In un'economia di mercato tutto si basa sul consumismo. L'unico motivo per il quale state indossando dei vestiti, state mangiando. L'unico motivo per cui avete una casa ed è per il fatto che qualcuno da qualche parte sta comprando o fornendo un servizio, scambiando denaro in una qualche forma e consumando. Cosa ne pensa il mondo naturale di questo? Cosa ne pensa un'economia della terra? Come sappiamo la terra è un sistema finito e chiuso. La preservazione e non il consumo dovrebbe essere il principio guida. Se viveste su un'isola con un piccolo gruppo di persone e aveste una quantità limitata di risorse con una generazione naturale di crescita, una società molto semplificata, decidereste di creare un sistema economico che cerca di usare tutto questo il più velocemente possibile? No. E ho paura che la terra sia un'isola, in un vasto mare cosmico ed è molto più piccola di quanto pensiamo. Punto secondo, obsolescenza. Il sistema di mercato è guidato esplicitamente dall'obsolescenza. C'è l'obsolescenza intrinseca. L'obsolescenza intrinseca usa il rapporto costo-efficienza. Significa che ogni bene deve essere prodotto in modo scadente, fin dal momento in cui viene creato perché le aziende devono risparmiare dall'inizio della produzione per rimanere competitivi rispetto a tutte le altre. E poi c'è l'obsolescenza pianificata che è molto più insidiosa. È essenzialmente un tipo di frode, anche se totalmente giustificata e formalizzata come una tattica di marketing. Quindi si progettano beni che si rompono in modo da perpetuare gli acquisti ed è veramente incredibile che tutto questo esista. E cosa ne dice la natura di questo tenendo conto di quanto appena detto? È un'irresponsabilità ambientale progettare beni scadenti e permettere che si rompano inutilmente. Questo è veramente offensivo, abbiamo bisogno di una progettazione ottimale affinché le cose siano resistenti e durevoli nel tempo. Punto terzo, la proprietà. La metafisica della proprietà è una premessa basilare che consente una limitazione controllata delle risorse e dei beni. Dico metafisica perché la proprietà non è reale. Una cosa come la proprietà non esiste in una visione più ampia e nemmeno merci fisiche o intellettuali che siano. È tutto effimero. L'idea che ognuno di noi possieda qualcosa, per esempio, ha senso quando parliamo di economia naturale e l'uso dei beni. Che dire della loro accessibilità? L'ambiente naturale richiede accessibilità, la proprietà è inefficiente. L'accesso strategico è più responsabile verso l'ambiente e è più efficiente per la società. Se avete un'automobile che magari guidate per il 40% del tempo, perché non lasciarlo usare a qualcun altro per il restante 60%? Così si crea un sistema di accesso e usufrutto che è rispettoso dell'ambiente. Punto quarto, crescita. Costruite ancora una volta sul consumismo. L'economia di mercato richiede una crescita costante per mantenere l'occupazione e questo si collega anche alla crescita della popolazione umana. Sentite sempre dire dai politici frasi come siamo cresciuti, ci serve più crescita del PIL, non c'è crescita, abbiamo bisogno di un'economia stazionaria. Ripeto, la terra è un sistema limitato. La terra richiede un'economia di carico bilanciato che rispetti l'equilibrio dinamico dove tutto è interconnesso e in armonia, senza la necessità di sprecare ed esaurire solo per mantenere il lavoro. Punto quinto, competizione. Questo ci porta al nuovo sviluppo sociale di cui si parla troppo poco. Il sistema economico di mercato si basa sulla concorrenza tra individui e aziende all'interno del libero mercato, vendendo il vostro lavoro o competendo per una fetta di mercato. Questa è una nozione completamente metafisica se ci pensate, basata sulla nostra forma primitiva e tribale di scarsità, che non ci consente di andare d'accordo e che non ce n'è abbastanza per tutti. Quindi dobbiamo combattere per tenere ognuno pensando solo a se stesso. Ciò che scopriamo alla collaborazione umana in realtà è il fulcro di tutta l'ingegnosità, si chiama usufrutto. E studi psicologici ora mostrano una distorsione a lungo termine nella visione competitiva, la distorsione, la corruzione, i crimini che vedete, tutto quello che sentite dalle notizie, colletti bianchi, colletti blu, tutto deriva dal concetto primitivo di ambiente competitivo. Punto sesto, lavoro in cambio di denaro. Oggi la sopravvivenza umana dipende dalla capacità personale di ottenere un'occupazione e procurare vendite. Questo è il tuo diritto di vivere. Se non trovi un lavoro puoi anche morire, perché non occupi un ruolo economicamente efficiente. Cosa significa questo per il nostro sviluppo scientifico tecnologico? La meccanizzazione, ma è incredibile. L'avvento dell'automazione sta rendendo l'occupazione dell'uomo sempre più scarsa e completamente obsoleta. La meccanizzazione è più produttiva ed efficiente del lavoro umano. Significa che è insensato dal punto di vista sociale non meccanizzare e godere dei frutti dell'abbondanza, della comodità e della sicurezza che può creare. Punto settimo, scarsità e squilibrio. Contrariamente a quello che molti pensano, il denaro e il movimento di denaro che genera il consumo è chiaramente basato su squilibrio e inefficienza. È un'economia inefficiente, un'anti-economia. La povertà, se vi guardate attorno, non è solo il risultato di qualche avida istituzione o cose simili. Lo squilibrio è intrinseco del sistema. Il sistema non funzionerebbe se fosse efficiente e se ci fosse equilibrio in ogni elemento della sopravvivenza umana. Perché dovremmo volere abbondanza, uguaglianza? Nuovi studi sociologici hanno scoperto che l'uguaglianza è molto positiva per la salute pubblica. Se confrontate gli Stati Uniti, una società altamente stratificata con profondi squilibri, con la Norvegia e la Svezia, che hanno livelli di stratificazione minori, la salute pubblica in quelle società meno stratificate è decisamente migliore. Perché non lavorare per creare un'abbondanza attraverso l'efficienza che la tecnologia ora ci fornisce per soddisfare i bisogni dell'umanità? Questo ridurrebbe anche la criminalità e ogni genere di problema sociologico. Lo spettro del disordine sociale? Eccolo qua. Abbiamo un macrosistema socio-economico, un elemento macroeconomico, che praticamente produce questa distorsione sin dall'infanzia attraverso ogni livello dell'esposizione sociale. Tutto quello che vediamo deriva da questa distorsione malata di economia. In definitiva esiste una relazione tra macroeconomia e sociologia. Parte seconda. Conflitto dei valori, potenziale sociale, collasso e transizione. Qui c'è una serie di problemi sociali che trovate periodicamente sui giornali. Povertà, disoccupazione, collasso del debito, inquinamento. Che sono tutti tecnicamente superati. Nessuno di questi dovrebbe esistere nel modo più assoluto. Perlomeno potrebbe essere ridotto al minimo. Almeno quelli un po' più personali. Eliminando l'inefficienza ambientale e sociale del mercato e applicando semplicemente le moderne conoscenze scientifiche, si può risolvere o ridurre notevolmente ognuno di questi problemi. Questo è il nostro potenziale e fino a quando non massimizzeremo il nostro potenziale, purtroppo, a causa della struttura in cui ci troviamo, siamo di fronte a una forma di collasso unica di cui ancora si parla poco. Esistono tre fattori critici, secondo me. Disoccupazione. Mi dispiace dirlo per come vanno le cose. Non vedrete quell'aumento del livello di occupazione che avete visto in passato. È finita. Costo dell'energia può solo aumentare e adesso in un'economia degli idrocarburi non c'è assolutamente nessun investimento o nessuna vera intenzione dei governi o delle multinazionali di muoversi verso l'energia rinnovabile che potrebbe rimpiazzare l'attuale infrastruttura. Verranno fatti molti più soldi se il sistema fallisce per queste scarsità. Fallimento del debito. Sono per caso l'unico che ride sul fatto che questo falso concetto del debito, che è simile al gioco del domino, che sta battendo gli stati uno dopo l'altro? Transizione. Ecco il conflitto dei valori. Ogni volta che parlo di questi problemi con la gente, in genere sono d'accordo con me, ma seguono i valori preconfezionati che li legano alla distorsione del sistema attuale. È una guerra dei valori. Come facciamo a passare da un valore ad un altro? Come possiamo fare noi per ispirare un cambiamento e creare una riforma sociale? Quale ruolo pensate di poter giocare? Cercherete di massimizzare i vostri interessi personali? Oppure vi renderete conto che il vostro interesse personale è tanto importante quanto l'integrità di tutta la società? Dove l'interesse personale deve diventare interesse sociale? Questa è la nuova equazione e questa è la grande domanda. Grazie mille.